Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera a tutti come state, spero bene come anche le nostre squadre italiane che ieri hanno vinto due belle partite, l'Inter di sofferenza, di cuore contro il Barcellona 1-0 Napoli che ha fatto qualcosa di storico, la John Cruyff Arena con la squadra di Luciano Spalletti che è andata a insegnare calcio agli olandesi, gli ha dato una lezione di calcio, la schiantata per 6-1 ma non siamo qui oggi a parlare di Champions, ne parleremo semmai domani parliamo di Luca Nardi, parliamo di Luca Nardi e della partita di oggi contro Stefano Sassifas io ragazzi ve l'avevo detto dopo che l'avevo visto dal vivo a Roma perché già vedendolo dal video in quegli streaming, challenge a cui ti puoi rendere conto di qualcosa ma non tutto vedendolo dal vivo hai delle percezioni che non puoi avere se lo vedi giocare dalla televisione e vedendolo giocare dal vivo io sparai a maggio, questo per fine anno arriva nel primo centro del mondo magari non ci arriverà perché adesso ho un mese di stagione ma siamo lì, siamo lontani Luca Nardi è molto vicino a questo traguardo ma a prescindere poi dalla classifica le sensazioni che ha dato in questi giorni sono molto positive io ho visto la partita contro Goffè, ho visto gran parte della partita contro Shevchek e la partita di oggi contro Tissi Pass oltre poi ad averlo seguito un po' con questi mesi nei Challenger devo dire che veramente rimango amminato è un ragazzo che non ama il tennis al 100% non mi sembra abbia tutta questa passione viscerale per il tennis ci tiene ma non ha una passione viscerale per il tennis e soprattutto mi sembra che debba essere sempre un po' stimolato per poter esprimere il meglio del suo potenziale non a caso due delle più grandi prestazioni che sono venute fuori quest'anno sono contro Tissi Pass e contro Norri ma non dimentichiamoci che lo scorso anno anzi, la scorsa settimana scusatemi a Tel Aviv ha perso nelle qualificazioni contro le Shev ha perso delle partite nei Challenger contro avversari per esempio con cui Nardi non ci deve perdere tante partite anche magari dominate a volte non portate fino in fondo oggi è stato veramente bravo perché per un set io prima della partita ero convinto che oggi anzi si passano gli stessi attaccati almeno un set però non immaginavo l'atteggiamento che ha tenuto per tutto il secondo set perché poi una cosa appunto è fare un set dove stai attaccato al livello del tuo avversario dove stai sempre vicino, stai a contatto del tuo avversario un set in cui servi particolarmente bene un set in cui fai delle belle cose in cui sei difficile da breccare però Nardi in tutta la sua partita non ha concesso palle break se si passano a concesso due e la seconda con il giallo anche della prima di servizio che era fuori e non era buona e soprattutto i segnali positivi sono proprio come dopo il primo set ha continuato a giocare la sua partita al 100% perché un ragazzo della sua età ma in tanti dopo un primo set perso in maniera così combattuta scioglie ecco i risultati più rilevanti scusatemi guarda a parte google scioglie vabbè ok scusate ho trovato questo sul web scusatemi ora dovrebbe essersene andato non dico più la parola perché sennò riparte un'altra volta comunque ragazzi uno che gioca un primo set del genere di solito nel secondo set scioglie il primo set tirato nel secondo set la partita poi diciamo va in discesa l'inerzia passa dalla parte del giocatore più forte che ha vinto anche un primo set tirato invece Nardi nel secondo set servendo anche peraltro per il secondo è rimasto lì attaccato è rimasto lì attaccato al suo avversario e gli ha fatto sudare ogni punto fino alla fine recuperando anche i torri di servizio da 0-15 da 15-30 non concedendo mai appunto una panna break le chance le ha avute lui sul 5 pari per andare a servire per portare la partita al terzo poi ancora qualcosa sulla tenuta fisica si può rivedere perché per esempio anche la partita con Goffene l'ha vinta con i due tie break giocati in maniera mirabile vinta al terzo con lui che già accusa i crampi sul 5 pari al terzo con Shevchenko è anche stato bravissimo a disinnescarlo dopo il primo set si può rivedere qualcosa sulla tenuta fisica si può rivedere qualcosa a volte anche sulla tenuta mentale proprio su questo ragazzo anche proprio perché tante volte serve uno stimolo per attivarlo e certe partite non le gioca al 100% non le gioca al top non le gioca come dovrebbe fare è anche normale per la sua età però è un atteggiamento che va rivisto cioè è un po' alla Fognini da questo punto di vista cioè quando parte sfavorito gioca le sue migliori partite quando parte favorito fa fatica è qualcosa sicuramente da migliorare però il talento è sempre evidente cioè la disinvoltura con cui gioca tutti i colpi la completezza che ha nel suo repertorio dritto rovescio indistintamente forse concede qualcosa di più con il dritto rovescio veramente fluido magari non ha ancora una soluzione vincente non ha un colpo che eccelle però ha un'ottima mano gioca molto bene nei pressi della rete la palla corta la esegue il più delle volte bene il servizio è ottimo il risposta può migliorare nella reattività, nella profondità a volte è un po' troppo conservativo per esempio anche sulla palla break poi nel secondo set poteva avere un pochino più di coraggio e tante risposte anche sulla seconda di tizipass poteva giocarle meglio però ragazzi stiamo parlando di un ragazzi appunto ancora molto giovane che sta maturando ma secondo me appunto proprio come talento io ve lo dissi a maggio il tennis italiano è uno dei migliori talenti che abbiamo proprio a livello di tennis di base da cui si parte poi nel tennis agiscono tanti fattori però già se hai una grande base una grande partenza una grande tecnica di base si può intervenire già su un materiale diverso da un giocatore che magari invece si deve costruire certe soluzioni e devo dire che veramente veramente Nardi da questo punto di vista è tanta roba mi piace poi il suo atteggiamento in campo è sempre molto tranquillo flemmatico direi quasi non si arrabbia mai mai una parola di trao troppo mai una piega si troppo piatto però io preferisco uno piatto come lui nel senso anche freddo che non esprime troppe troppe sensazioni anche oppure non ha degli atteggiamenti altisonanti durante le partite urlacci pugnetti continui anche ragazzi parentesi ma vogliamo parlare di sinner che ormai dopo tutti i punti sto pugnetto sto pugnetto prima non faceva mezzo pugnetto dopo tutti i punti sto pugnetto eppure è una cosa falsa perché se lo fai dopo tutti i punti cosa ti carichi se stai sotto 5 a 1 15 a 0 fai il pugnetto hai fatto il punto di 15 a 0 se sei sotto 5 a 1 non serve a niente è una cosa che devi fare sui punti più importanti per mandare messaggi positivi al tuo corpo ma se lo fai a tutti i punti perde anche di senso preferisco uno come Nardi che ha un atteggiamento anche molto flemmatico molto tranquillo molto sereno in campo non eccede né nelle reazioni negative né nelle reazioni positive io preferisco uno come lui piuttosto che uno appunto che fa pugnetti a caso o tira urlaggi a caso fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate una valanga di mi piace al video condividete questo video ed iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e a questo punto arrivi a scelare nel prossimo video a questo punto è un atteggiamento che è un atteggiamento Grazie a tutti